A che cosa serve questo macchinario e che cosa sta facendo? Non in tutti i cantieri è possibile scaricare il materiale sfuso direttamente con il ribaltabile. Per ovviare a questa problematica abbiamo questo impianto mobile che ci serve per realizzare, oltre ad altri scopi naturalmente, l'insaccamento del materiale. In questo caso procediamo all'insaccamento della sabbia. In che senso? Ecco la sabbia insaccata. Come vedete abbiamo già una notevole giacenza a magazzino. Non solo sabbia, ma anche ghiaie vengono insaccate. Questa è un'altra partita. Come va si voglia, schi